Nella seconda domenica di Quaresima, il Vangelo, tratto da Marco, ci offre il racconto di un episodio avvenuto nella vita di Gesù, la trasfigurazione che secondo la tradizione è accaduta sul Monte Tabor. Gesù si trasfigura e dice nel Vangelo di Marco che le sue impesti addirittura divennero bianchissime. Nessun lavandaio sulla Terra è in grado di rendere così bianche quelle vesti. Questo piccolo dettaglio sta a sottolineare come veramente questo episodio, questo evento, sia sfolgorante, sfruga alla percezione e addirittura superi la percezione umana. Però proprio quel piccolo dettaglio, il colore bianco, sta a sottolineare una rappresentazione simbolica, dice un simbolo, raccolta un simbolo tipicamente biblico che rimanda a qualcos'altro. Nel Vangelo, ma in modo particolare, nella Sacra Scrittura, nella Bibbia, il bianco indica la purezza, l'illucenza, ma allo stesso tempo indica anche la bellezza, indica anche la festa, l'eleganza. Ma c'è un altro significato. Il bianco indica anche, soprattutto nel libro dell'Apocalisse, indica la gloria. Cristo, gli angeli, i santi sono rivestiti di vesti bianche. Tutto questo è simbolo della gloria. Che cos'è la gloria? La gloria è la presenza di Dio, è la presenza di Dio però vissuta in pienezza, non in primizia. Quella veste bianca che abbiamo messo, anzi, che ci hanno donato i nostri genitori, i padrini, le sacerdote, nel giorno del battesimo, che indica appunto la nostra santità, il nostro essere rivestiti di Cristo, indica solo la primizia della gloria che noi possediamo nel giorno del nostro battesimo, ma che dobbiamo vivere nella vita cristiana mediante l'osservanza dei comandamenti di Dio, della parola del Signore, fino a giungere al momento della gloria, quando contempleremo faccia a faccia il volto del Signore, quando Dio stesso sarà per noi cibo, bevanda di vita, avremo la vita in noi stessi. Questa è la gloria. E allora il cammino di quale insieme? Così anche com'è tutto il cammino della vita, perché ognuno di noi è un buo viato, siamo dei pienegrini, siamo in cammino, direbbe Sant'Agostino, verso la patria. Ecco allora, questa domenica, a tutta la quaresima, ci vuole dire che l'essenziale non solo è invisibile agli occhi, ma noi che andiamo, noi andiamo verso il futuro, anzi il futuro, si renda presente e ci coinvolge e ci travolge imbettendoci in un dinamismo tale da farci toccare su questa terra la bellezza del cielo, ma che mostreremo nel giorno più importante della nostra vita, cioè nel giorno del nostro Dies Natalis, nel giorno della nostra morte corporale, quando, se avremo veramente osservato la parola di Dio, se avremo amato Dio e i fratelli per amore di Cristo, e allora sarà un giorno di festa, sarà un giorno di gloria, saremo rivestiti nelle vestite di salvezza e anche il nostro cuore, la nostra vita, sarà bianchissima, perché Dio stesso sarà tutto in noi.